Ciao, sono Gabriella del NaturaSea di Schio e sono qui riunita con i miei collaboratori, eccoli qua, tutti quanti pronti, per scambiarci dei pensieri su una parola. Proviamo a dire, se io provo a dire Lorella cibo, tu cosa mi risponderesti? Energia e vitalità. Nicola, per me il cibo è calore. Veronica, per me è un momento speciale di pausa. Lucia, per me è il nostro pane di filiera. Jessica, per me è il progetto Seme Libero. La nostra cuoca a terre, il cibo è emozione. Linda, per me cibo è famiglia. Marco, per me è sostenibilità. La nostra erborista Cristina, prevenzione e salute. E il nostro caro Alessandro. Per me il cibo aiuta ad andare in bici. Io potrei anche dire che il cibo è ritmo. Cosa dite ragazzi? Ci proviamo? In natura sì di Schio per voi. Gente che ci... Anche bene! Grazie! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti